Ciao ragazzi, oggi vi mostro lo Xiaomi Redmi Note 4 che si presenta appunto come un boost del 3 e questa volta il chipset è un Helio Deca-Core, quindi un X20, a 2,1 GHz, accompagnato da una GPU Mali T788. Questo che vedete è nella variante da 64 GB e 3 GB di RAM, mi è stato inviato da Honor Biker Ringrazio, che è uno shop che vende appunto questi smartphone cinesi, però offre, a differenza degli altri con un prezzo leggermente superiore, garanzia per due anni Italia, spedizione dall'Italia quindi veloce e priva di dogana. Come tutti i dispositivi Xiaomi Redmi Note è un dispositivo che può essere considerato un fablet, visto comunque le dimensioni, da 151 mm x 76 e 8,4 mm di spessore. Infatti appare molto più spesso e meno affusolato rispetto al 3 e al 3 Pro. C'è da dire però che abbiamo anche una batteria da 4150 mAh che va a dare un punteggio altissimo a questo dispositivo per quanto riguarda l'autonomia. Infatti comunque il dispositivo è abbastanza pesantuccio, abbiamo circa 175 grammi e a dirla tutto un po' si sentono. Però in compenso abbiamo un dispositivo con un ampio display molto leggibile e perfetto per i giochi con una definizione full HD e abbiamo comunque una batteria che è veramente infinita. Con l'utilizzo blando si riesce ad arrivare a due giorni, addirittura io tenendo il GPS attivo tutta la giornata ieri, con l'utilizzo blando, navigazione, qualche applicazione, qualche gioco, sono riuscito ad arrivare dalla mattina fino alla tarda sera con ancora il 20-30% di batteria. Vi ricordo che il dispositivo è un dual sim che però va a sacrificare la memoria, quindi se volete due sim dovete sacrificare la micro sd, ma è anche vero che nella versione appunto da 64 giga non si sente molto l'esigenza appunto di fare questo upgrade tramite scheda. Abbiamo una nano sim e una micro sim nello slot come appunto la maggior parte dei dispositivi con batteria non removibile. Sulla parte poi laterale abbiamo tassi del volume accensione, abbiamo i tassi a speramento sulla parte inferiore, sulla parte poi superiore abbiamo anche una porta a infrarossi per utilizzare il nostro dispositivo come telecomando. Il dispositivo offre ancora un'entrata micro sb normale, quindi non type C, quindi questo potrebbe essere un vantaggio e un svantaggio a seconda della preferenza dell'utente. La scocca posteriore è completamente in alluminio, ben rifinita, veramente dona un look molto bello a questo dispositivo, comunque costruito molto bene per essere comunque un dispositivo da un prezzo comunque davvero concorrenziale circa 200 euro, ma allo stesso tempo comunque devo dire la verità offre poco grip, assolutamente serve una cover perché scivola da mano, come molti dispositivi con la scocca quindi posteriore metallica e soprattutto molto fragile, infatti dopo poche ore mi è scivolato da mano con un bel danno evidente che potete notare qui. Sulla parte posteriore abbiamo una fotocamera che scende da 16 a 13 megapixel nel redmi note 4 con apertura di 2.0 autofocus abbastanza veloce e una fotocamera dual led dual tone che offre comunque una buona illuminazione di sera. Poi sulla parte posteriore troviamo anche il sensore d'impronta che permette di sbloccare velocemente il dispositivo e oltre ad essere appunto molto veloce nel riconoscimento è molto preciso. Non c'è stata nemmeno una volta in cui non sono riuscito a sbloccarlo tramite il sensore d'impronte. Per quanto riguarda la connettività, GPS con bussola funziona in maniera egregia, in pochissimo tempo sono riuscito ad arrivare a 16 satelliti, ho provato anche utilizzarlo con maps e funziona veramente da dio. Anche la connettività è perfetta nonostante manchi la banda 800, ho fatto comunque dei test nello stesso punto con s7 e con questo redmi note 4 e ho avuto le stesse performance sotto la rete 3. Come vedete un buon risultato. Buona anche con la qualità delle chiamate, un po' meno magari la voce che non ha una potenza davvero eccezionale. Come vedete comunque non è altissimo il volume. Vi ricordo che la MIUI permette anche di registrare le chiamate direttamente senza un software aggiuntivo. Mi ricordo che sul dispositivo ho dovuto installare una rom MIUI italiana, quindi da MIUI.it, con lo sblocco del bootloader, c'è la guida sempre nel canale YouTube, perché quando vi arriva, vi arriva con rom internazionale e le lingue disponibili sono solo inglese e cinese. Arriviamo al punto saliente, cioè le prestazioni, il dispositivo è davvero un boost tremendo, il multitasking è velocissimo, non ho mai notato rallentamenti o dubbi, certezze, anche sulla navigazione, sui giochi, sulla visione di contenuti multimediali. Davvero perfetto sotto questo ambito. Non si può chiedere di meglio come prestazioni e non ha nulla da invidiare anche ai processori Snapdragon più potenti, appunto come l'820. Davvero molto molto prestante questo dispositivo, tant'è che su AnTuTu ho raggiunto circa 82 mila punti e un ponteggio tutto sommato davvero non male. Si comporta anche perfettamente nell'utilizzo dei giochi, infatti quello che ho voluto provare è Modern Combat, che è un gioco abbastanza impegnativo e che fa allargare quasi tutti i dispositivi. Invece qui ho avuto una buona performance sia per quanto riguarda lo scaling, che non è stato appunto molto pesante, e una fluidità comunque oltre i 30 fps. Right now, we need to get out of here. Wait here. E' l'esperienza di gioco davvero incredibile quindi per chi ama i giochi il dispositivo perfetto moltissima autonomia schermo grande ottima qualità e leggibilità al sole e nonostante comunque abbiamo un decacore non scalda affatto parliamo della fotocamera a mio parere l'unico punto un po più dolente di questo telefono che rasenta quasi la perfezione per quello che viene pagato quindi circa 200 euro allora il dispositivo offre degli scatti comunque abbastanza decenti in buone condizioni di luminosità ma tende a sacrificare la qualità della foto quando c'è troppa luminosità o quando ce n'è troppo poca infatti come vedete qui in condizioni di troppa luminosità tende praticamente a bruciare gli oggetti con troppa esposizione peccato perché comunque la fotocamera offre davvero una buona gamma cromatica è una risoluzione a 13 megapixel che tutto sommato veramente non è male comparto quindi fotografico che può andare bene a chi non è diciamo amante della fotografia che è un po più pignolo potrebbe comunque detestare appunto questa questo fatto come ho detto però in condizioni di buona luce quindi non troppo luminose e non troppo poco luminose abbiamo degli scatti davvero perfetti e molto molto definiti fotocamera interna che offre una buona qualità dell'immagine abbastanza definita e però soffre un po del contro luce un po come tutte comunque le le camere interne dei dispositivi di fascia media economica andiamo a vedere anche la fotocamera applicazione stessa come ho detto lo scatto è davvero molto veloce e si riescono a fare delle buone fotografie io comunque sono un po pignolo perché utilizzo di solito s7 che ha una tecnologia dual pixel e quindi è di molto di gran lunga superiore a quasi tutti i dispositivi che conosciamo veramente non sto scherzando è terribile una volta che utilizzate anche la modalità manuale non vi accontentate più di niente l'applicazione della fotocamera è quella solita di tutti gli xiaomi e diciamo che non offre un'interfaccia comunque molto semplice e intuitiva potrebbe essere sicuramente a mio parere migliorata che non offre un'interfaccia vediamo anche la parte audio sentiamo anche un po i dialoghi parte audio diciamo non delle migliori non potentissima però il suono appare sempre chiaro e pulito in definitiva posso dire che è veramente un ottimo dispositivo da 10 e lode per quanto riguarda il fatto che dual sim prestazione autonomia e il fatto che comunque per 220 euro o meno abbiamo un dispositivo da 64 giga di memoria interna davvero ottimo anche per i giochi un po meno contento per la fotocamera che comunque è buona ma non raggiunge alti livelli appunto come i top gamma peccato per quanto riguarda poi l'interfaccia è davvero snelle pulita e soprattutto la MIUI offre anche un'ottima sicurezza che permette anche di gestire i permessi di ogni applicazione come notifica eccetera senza installare applicazioni di terze parti dispositivo che comunque viene aggiornato MIUI che non ha nessun tipo di crash o problemi ma bisogna essere un po' più smanettoni comunque nell'aggiornare il firmware, sbloccare il bootloader e comunque altre operazioni per qualsiasi dubbio o domanda potete lasciare un commento qui sotto spero che il video vi sia piaciuto e spero che lasciate anche un mi piace per supportare il canale un saluto a tutti e alla prossima